E' in arrivo la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti. Giovedì scorso, alle 21, al centro sociale, in via Oberdan 11, si è svolto il primo della serie di incontri che Ecoambiente ha programmato in diversi comuni altopolesani, intitolato, da oggi, Riciclare Conta. L'incontro è stato organizzato da Ecoambiente, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Castelmassa, e ha avuto l'obiettivo di informare la cittadinanza sul nuovo metodo di conferimento dei rifiuti, specialmente per quanto riguarda il rifiuto secco residuo. La cittadinanza, qualche giorno fa, ha ricevuto presso la propria abitazione una lettera di invito alla serata. In questa lettera era contenuta la spiegazione del nuovo metodo di raccolta dei rifiuti, tradotto anche in inglese, romeno, arabo, cinese, della tariffazione puntuale della consegna del nuovo kit per la raccolta differenziata e un foglietto di delega per il ritiro dei nuovi contenitori. Alla serata erano presenti in qualità di relatori Marco Trombini, presidente di Ecoambiente, Antonio Laruccia, presidente del consiglio di bacino rifiuti di Rovigo, Luigi Petrella, sindaco di Castelmassa, e Walter Giaccetti, direttore tecnico di Ecoambiente.